Allora, partita molto molto equilibrata, per 39 minuti, cosa è mancato nel finale? Ma non è mancato nel finale, la partita è stata determinata da alcuni episodi anche durante, anche precedentemente, due contropiedi aperti, non puoi sbagliare, erano quattro punti fondamentali, abbiamo regalato poi due palloni sulle rimesse all'inizio del quarto periodo e appena dopo in attacco con una rimessa dal fondo e a questo livello non te lo puoi permettere, se fai il calcolo sono quattro punti sbagliati, quattro punti regalati, sono otto punti, perditi, rotto e lì c'è la gioca, l'ultima azione e se metti che poi abbiamo sbagliato nell'ultimo minuto quel passaggio a Rosario al dentro e quel tiro aperto su un ribaltamento, dobbiamo maturare, come ho detto i ragazzi, dobbiamo essere più cinici nel momento della partita, quella quando conto, quando bisogna fare la differenza. Mancava a vostri, va detto, onore di Sonaka, però comunque il campo non si è vista tutta questa differenza, nonostante gli americani in meno. Ma a volte non c'era e quindi è difficile stare a pensare, ragazzi penso che abbiano avuto un ottimo atteggiamento, abbiamo preparato, secondo me, una buona partita, abbiamo lavorato bene durante la settimana e la prestazione di oggi ne ha la testimonianza. L'ottima, White ha fatto pentole e coperti, però non penso che tante altre squadre abbiano uguali, però noi siamo sicuri che siamo sulla giusta strada, dobbiamo soltanto e sicuramente cambiare l'aspetto mentale, essere più duri, più cinici, avere più fiducia e coraggio nel momento che conta.